Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego dove trovare questo talismano che ti potenzia le rune è uno scarabeo d'oro molto semplice e se volete usarlo usatelo solamente quando dovete farmare rune non è che sostituite il talismano che avete già equipaggiato ad esempio io ho il talismano che ti aumenta il pv e lo metto al posto di quello metto il talismano che ti potenzia le rune no anzi lo uso solamente quando devo andare a farmare le rune a quel palazzo allora il posto è questo dirigetevi qua in questa caverna non me ne ero proprio accorto di questa caverna abbandonata visto dal nome caverna abbandonata una caverna dimenticata da dio attenzione qui alla marce scienza anche se a me non fa un cazzo perché io sono la marce scienza e nel buio qua io sono la luce quindi lasciamo stare ora proseguite da questa parte se volete quest'arco prendetelo un arco serpentino proseguite sempre da questa parte sempre più giù attenzione qui ai ratti alla pianta che ti tira una palla di veleno non so neanche che cosa è quel coso comunque vi divertirete un sacco i boss sapete già chi sono adesso vi faccio vedere chi sono i boss c'è due fessi sui topolini qui invece c'è la tana della pianta qua sembra la pianta che questa volta non ti tira la luce addosso ma ti tira una palla di veleno ormai tutti ti tirano la palla di veleno oggi sciplata ancora sciplata là e ci siamo ci siamo eccoci arrivati adesso vi faccio vedere chi sono questi due fessi da uccidere ora chiamo l'assassino è già neri coltelle l'ho potenziato a livello 10 madonna è un mostro è un mostro guardate tutto da solo fa tutto lui fa tutto lui ecco un altro fesso dall'altra parte quindi ci penso io liscio liscio e tocca a me adoro quest'arma se volete questo spatone del mastino ci ho fatto un tutorial più l'artiglio della genera di guerra mamma mi ha sciottato con due colpi ti do una mano? no fa tutto lui guarda guarda fa tutto lui andiamo alzati alzati ragazzone alzati affronta il mio campione vabbè ora basta cazzeggiare ragazzi se il video vi è stato utilissimo una volta ucciso questo tizio vi darà lo scarabeo d'oro eccolo qua quindi come ho detto equipaggiatelo solo quando dovete farmare rune è molto consigliato quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione se il video vi è stato utilissimo iscrivetevi al canale lasciate like attivate anche la campanellina e noi signori miei ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao